musica bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder e ragazzi non era in programma non lo sapevo di caricarlo ma è appena arrivata una cosa incredibile dal mio gruppo di leakers su telegram che ringrazio ovviamente per avermi mandato questa immagine ragazzi è stato scoperto un nuovo set un nuovo bundle che uccirà tra pochissimo e precisamente il 13 novembre disponibile su nintendo switch ps4 e xbox one purtroppo non è disponibile per il pc e per il mobile questo set ragazzi che fra poco vi farò vedere è veramente tanta tanta roba e comprende oltre alla skin anche il piccone il deltaplano i mille v bucks ragazzi siete pronti a vederlo mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo ragazzi pronti 3 2 e mezzo 1 e un quarto sbada guardalo qua questo ragazzi è come si presenterà sotto forma di codice acquistabile sia nei negozi online che nei negli store fisici quindi ragazzi si chiama deep se lo faccio vedere un po meglio ragazzi eccolo qua ragazzi il deep freeze bundle e come vedete la skin è assolutamente geniale dedicata all'alta montagna al freddo al ghiaccio ragazzi questo ghiaccio che tutti stiamo aspettando cominci ad arrivare finalmente sulla mappa di fortnite il piccone lo vediamo davvero molto molto figo sembra proprio un rompighiaccio come vedete anche il deltaplano niente di esagerato ma il backpack invece uno zaino da neve veramente fighissimo tra l'altro come vedete nell'immagine ufficiale anche mille v bucks per noi se acquisteremo il bundle e la cosa davvero davvero interessante è che se guardiamo nell'angolino in basso a destra ragazzi guardate un po c'è un logo c'è un logo ed è un logo che tutti conosciamo ragazzi è il logo della warner brothers quella dei luni toos in poche parole io amo i luni toos sono un ragazzo che è cresciuto con willy coyote tutti i luni toos big beep lì come si chiama taddeo smile insomma tutti ragazzi che ci sia una collaborazione finalmente con warner bros ed epic games di certo lo sapremo rimanendo aggiornati sul canale ragazzi quindi se vi è piaciuto questo video un bel like dai che sfondiamo il bottone di like mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella noi ci vediamo in live ciao ciao